La flora e la vegetazione spontanea nelle aree umide è il tema del secondo appuntamento del 2016 delle collezioni minime. Piccola esposizione di reperti naturalistici proposta dal Museo regionale di scienze naturali e ospitate in due vetrine nell'ingresso della sede del Consiglio regionale. Fino al 3 luglio in mostra una selezione di esemplari del bario di flora spontanea palustre, accanto a testi e manuali naturalistici provenienti dalla biblioteca del museo stesso.